Ah, ecco! Si sta succedendo, come si sto convocando, si sto qui, guarda! Ah, ecco! Taglio il nudo, mettono un taglio il nudo, visto! Eh? Senti, che fa... ma c'è proprio la fia, tu, quanti che è vivo? Un 48 lamparini! Fanno un altro! Che bellino! Che bellino! Ciao! Ciao! Ciao!